Buonasera Senti, stasera tu intanto devo dirti che sei molto fortunato perché hai tre concorrenti, tre pretendenti che al modo loro hanno tutti qualcosa di interessante Ho sentito Una bella, veramente una bella puntata sarà Senti, che canzone scrivi tu? Canzoni rock all'italiana, canzoni d'amore soprattutto Senti, vogliamo iniziare perché non abbiamo molto tempo? Certo In bocca al lupo, al pomerati Grazie Allora, attenzione, possiamo sicuramente partire Giuseppe, Luca e Marco Tantissima grinta per Antonella Antonella, prima domanda In una notte di luna piena a tua moglie crescono i canini e le unghie Tu che fai? Che fai, caro Marco? Allora, beh, la guarderei negli occhi e gli direi Sei una cosa pazzesca, mi sembra uno zombie Va bene Io niente, potrei dire, mi metto unghie e denti finti e facciamo una notte da lupi Bellissimo per Luca, sentiamo Giuseppe Eh, io invece la inviterei nel mio castello E gli direi Guarda, proprio stasera mi sono capitati due coniugi spagnoli E ci hanno un sangue caliente Bene Allora Abbiamo dato così le tre risposte Luca, Giuseppe e Marco Ora sentiamo quale è piaciuta di più ad Antonella Beh, sicuramente Marco Te è piaciuta Marco questa volta Giuseppe, prima indicazione supplementare Allora, terza domanda per Antonella Cinematograficamente parlando Come definireste l'amore? Il diavolo in corpo? Un tramme dei desideri? O... oppure? Beh, io non sceglierei nessuno di tutte e tre Bene Allora, Giuseppe ha risposto, sentiamo Marco Io annaccia la miseria L'amore per me è quello scurocetto del desiderio Ecco Marco ha risposto, sentiamo Luca Allora, senza altro il diavolo in corpo Pensando alla signora in rosso Bene, allora, quale è piaciuta di più? Quella di Giuseppe, Marco o Luca? Luca Luca, questa volta scegliamo la risposta di Luca Luca, indicazione supplementare E noi ritorneremo tra un attimo per proseguire questa puntata Cristina Davina Massimo Volpi Enrico Beruschi Gigi Andrea Riuscirete a trattenere le risate, amici? Sabato al circo Prossimamente su Canale 5 Bene Allora, attenzione, ritorniamo in studio per concludere questa seconda mancia E concludere anche la puntata odierna con Antonella Adesso sceglierà tra Giuseppe, Luca e Marco Giuseppe Giuseppe Complimenti Complimenti ad Antonella Non è ancora giunta l'ora Ho tre Complimenti Bene Abbiamo concluso E anche per voi appuntamento a lunedì Un bacio a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti